Roma 2020 Ogni città del mondo vorrebbe ospitare le Olimpiadi e organizzare un grande spettacolo in nome dello sport. Ma per poterlo fare, bisogna superare una sorta di esame. L'esame consiste nel rispondere ad un questionario richiesto dal Comitato Olimpico Internazionale, ossia l'organizzazione che decide dove si svolgono le Olimpiadi.